Buongiorno a tutti, io sono Marco Di Noia, nella vita svolgo il ruolo di account executive in uno studio grafico pubblicitario di Rivoli, la C2 Advertising. Ho conosciuto Inforelea attraverso le ottime recensioni di amici e conoscenti che avevano già in precedenza frequentato questo mondo. Mi occupo di marchi di comunicazione, special modo di comunicazione e pertanto avevo la necessità di approfondire, di formarmi ulteriormente per rispondere meglio a quelle che sono le dinamiche lavorative di tutti i giorni, alle richieste del mercato. E pertanto ho consultato quello che è il programma formativo di Inforelea e ho scoperto l'executive master in marketing and sales. Per me è stata un'ottima soluzione perché mi ha permesso di conciliare formazione e lavoro. Da questo punto di vista infatti Inforelea è stato splendido. Il percorso che ho svolto nel corso del master ha privilegiato le tematiche del marketing e delle vendite. Quindi il marketing e sales in principal modo. Perché? Perché sono le tematiche su cui io avevo più lacune o comunque più carenze. Avevo la necessità di prepararmi meglio, di avere una migliore preparazione. Ecco perché i corsi in presenza e quelli online hanno avuto la prerogativa di incentrarsi su queste due tematiche. Sono rimasto molto soddisfatto da quello che ho trovato e poi dal riscontro che ho avuto. Perché i docenti hanno privilegiato non soltanto la parte teorica, prettamente teorica, ma hanno saputo dimostrare come mettere in pratica questa teoria nel mondo del lavoro. Anche nel mondo di una piccola impresa come quella in cui io lavoro. E questo per me è stato fondamentale. Perché mi ha permesso di capire come migliorare, quali aspetti andare a variare nel mio lavoro di tutti i giorni. Prendi una piccola Prendi una piccola verdura